Buongiorno, l'obiettivo delle videopillole sui report preconfigurati del modulo presenze è di spiegare impostazioni, parametri di configurazione, utilità e finalità di stampa. I report preconfigurati sono statistiche per matricola, stampa prospetto mensile, stampa presenti e assenti, stampa transiti, stampa dipendenti, report giustificativi, stampa eventi, report piano ferie. In questa videopillola saranno esaminate le seguenti reportistiche stampa prospetto mensile, stampa presenti e assenti, stampa transiti, stampa dipendenti. La stampa prospetto mensile permette di ottenere un report del cartellino mensile del dipendente. Anche in questo caso, l'output di stampa è previsto nei formati CSV, HTML, PDF, Excel. Il report è ottimizzato per formato PDF. Configurazione Configurazione Le impostazioni di stampa sono parametrizzabili all'interno delle impostazioni del modulo presenze su menu presenze, impostazioni, impostazioni. Deve essere selezionata la categoria reportistica e la sezione stampa prospetto mensile. Le stesse impostazioni sono accessibili anche direttamente da menu di esecuzione stampa utilizzando il tasto impostazioni. Le impostazioni di stampa possono essere definite globali, ovvero per tutte le aziende di presenze, o per singola azienda nel caso sia necessario differenziare alcuni parametri su base azienda. Effettuare le impostazioni come tipo prestampato nessuno, in quanto rappresenta lo standard del report. Quindi, le prime impostazioni da effettuare, essendo delle impostazioni di tipo globali, è scegliere se la stampa prospetto mensile verrà modificata per tutte le aziende inserite all'interno del modulo di presenze, piuttosto che impostando i parametri solo tanto per l'azienda corrente. I parametri definiti su impostazioni e su transiti permettono di modificare l'output rispetto alla configurazione di preset, in quanto può nascere l'esigenza di personalizzare le informazioni sul report, come per esempio la scelta di emettere le timbrature, la leggenda delle causali, la colonna con il totale ore giornaliere e altri parametri. In queste due immagini al lato, un esempio di parametri che permettono un output con le informazioni minime di cartellino presenze. Quindi delle impostazioni minime di base prevedono la stampa ragione sociale, la stampa delle causali, evidenzia ore e assenze straordinari, stampa leggenda causali, stampa totali mensili, stampa ordinarie, stampa data e ora, stampa anomalia, stampa solo codici causali, evidenzia settimane e nella sezione transiti, stampa transiti. Vediamo un esempio di output di stampa basato su questi parametri. Ovviamente la scelta dei parametri va di cliente in cliente, va di configurazione in configurazione. Questi parametri che vediamo permettono di avere un output, un cartellino con tutte le informazioni utili e di interesse per un cartellino. Timbrature, risultati e totali mensili. Vediamo a sinistra il parametro e l'effetto sulla stampa a destra. Quindi la stampa ragione sociale, il valore numero 1, attiva con la scelta della ragione sociale la stampa della descrizione della ragione sociale all'interno della stampa del prospetto mensile. Il valore 2, stampa causali, attiva nella colonna assenze straordinari la stampa delle causali. il parametro numero 3, evidenzia ore assenze straordinari, permette di mettere in evidenza in grassetto le ore delle causali di assenza straordinari all'interno della colonna numero 2. parametro 4, stampa leggenda causali, permette di emettere a fondo pagina la leggenda delle causali cosicché si possa visualizzare la leggenda accanto al codice. Parametro 5, stampa totali mensili. La stampa dei totali mensili permette, dopo il calendario mensile, di emettere i totali mensili con le informazioni delle ore lavorate in ordinario, colonna, prima colonna, le ore di assenza, seconda colonna, le ore non lavorabili sulla terza colonna, le ore di straordinario sulla quarta colonna. I totali mensili portano poi i riepiloghi, oltre che delle singole causali, anche dei totali generali. Parametro 6, stampa ordinarie, emette la colonna ordinarie con le ore di lavoro ordinario lavorato sul singolo giorno. Parametro 7, stampa transiti, emette le timbrature presenti all'interno del calendario. cartellino del dipendente. Stampa data e ora, permette di avere in fondo pagina la stampa e la data di ora di esecuzione del report. Stampa anomalia, viene emessa una A di anomalia nel caso in cui nel cartellino presenze del dipendente se sia ancora presente una A di anomalia. Stampa solo codici causali, parametro 10, ottimizza l'output di stampa inserendo nella colonna assenze straordinari solo il codice della causale. farà poi riferimento alla leggenda causali per il dettaglio sul significato del codice. Evidenzia settimane permette di inserire una riga al termine di ogni settimana, in modo che sia graficamente più chiara la lettura delle settimane all'interno del periodo stampato. I parametri di configurazione della causale su visualizza prospetto mensile hanno effetto nell'esposizione della causale all'interno del report. importante fare attenzione a modificare i parametri di questa sezione in quanto utilizzati dalla procedura di elaborazione transiti. Quindi per emettere una causale all'interno della stampa prospetto mensile è necessario andare in configurazione su presenze e configurazioni causali, accedere alla causale e su visualizza prospetto mensile, impostare i parametri flag e presenza assenza in modo da posizionare la causale sulla colonna dei totali mensili corretta. Come indicato nella parte in rosso di fare attenzione a modificare i parametri perché ad esempio sul prospetto mensile è inserito la priorità della causale, quindi la priorità di elaborazione della causale. Quindi effettuare le modifiche su questi parametri solo sapendo quali sono i parametri da modificare senza intaccare la parte di elaborazione presenze. l'effetto per esempio di una configurazione sbagliata a livello di reportistica è quella esposta sulla parte destra della slide. Esempio di causale ore ordinarie configurata in modo corretto, la causale ha il flag n ordinarie presenza assenza p presenza, viene esposta nei totali mensili nella prima colonna. in questo caso di esempio 144 ore di ordinario. Se invece la causale ha un errore di configurazione, esempio la causale ordinarie è configurata in modo errato con s straordinari, all'interno dei totali mensili viene esposta sulla quarta colonna, quella dedicata alle ore di lavoro in straordinario. Quindi confrontando queste due immagini, nella prima immagine le 144 ore di ordinario sono posizionate sulla prima colonna dei totali mensili ordinarie ed è corretto. nel secondo esempio, su totali mensili ore ordinarie abbiamo il valore di 0 ore, le 144 ore di ordinario diurno sono state posizionate sulla quarta colonna per effetto della configurazione errata del flag straordinario assenza e di presenza assenza straordinarie. vediamo un report di esempio. Per ottenere un report mensile è sufficiente impostare su periodo un qualsiasi giorno del mese di riferimento che si desidera stampare. poi per periodi diversi al mese è possibile specificare date di inizio e di fine ma sempre all'interno dello stesso mese. Ad esempio, invece di stampare tutto il mese di settembre ho necessità di stampare solo dal 23 settembre al 29. in questo caso non imposto il periodo, inserisco le date nell'intervallo inizio e fine, un'immagine ad esempio, il mio cartellino è composto dal lunedì 23 a domenica 29 con 8 ore di ordinarie sul 23, 8 ore di ordinarie sul 24 con 2 ore di straordinario diurno, il giorno 25 2 ore di di roll 6 ore di meno, il giorno 26 8 ore di ferie, il giorno 27 8 ore di smart working, sabato 28 e domenica 29 a riposo. Queste informazioni, in base alla configurazione delle causali, vengono esposte nel cartellino della stampa prospetto mensile dove trovo corrispondenza delle ore ordinarie nella colonna delle ordinarie sulla colonna assenze straordinari sono riportati i codici delle causali, i totali mensili e la leggenda delle causali. All'interno poi dei totali mensili vengono esposte le singole causali con il totale elaborato sul periodo, il totale generale, il totale delle assenze e il totale delle presenze. Passiamo adesso alla stampa presenti assenti. La stampa presenti assenti permette di ottenere un report con lo stato di presenza o assenza dal lavoro del dipendente sulla base della timbratura di entrata e uscita già importata nel cartellino. Ai fini di controllo di presenza assenza è possibile considerare le eventuali richieste di timbratura mancante effettuate dal dipendente tramite portale o app. in caso di giustificativo di assenza è possibile visualizzare il motivo tramite la causale assenza. La stampa si basa sulla verifica delle timbrature di entrata e di uscita presenti nel cartellino tipo controllo, timbratura normale, per cui la matricola con tipo di controllo esente da transiti figurirà in output come matricola esente. La matricola con tipo di controllo, certificazione e presenza, essendo potenzialmente priva di timbratura di uscita potrà risultare in output come presente anche nel caso di assenza. L'output di stampa è previsto nei formati csv, html, pdf, excel. In base alle impostazioni e alle informazioni da stampare nel report il dettaglio in output risulterà ottimizzato per uno specifico formato. Vediamo adesso un esempio, una configurazione. La configurazione, le impostazioni di stampa sono parametrizzabili all'interno delle impostazioni del modulo presenze presenze, impostazioni, impostazioni, categoria tutti, sezione, stampa presenti e assenti. I parametri che possono essere attivati sono esamina timbrature di servizio Se attivo, esamina le timbrature di servizio presenti all'interno del cartellino è un dato non obbligatorio Timbrature solo verso entrata Se attivo il parametro, esamina solo le timbrature sul cartellino di presenze che hanno verso entrata è un dato non obbligatorio Limite ore presenza dopo entrata Per le matricole con tipo di controllo certificazione presenza che effettuano la sola timbratura di entrata la stampa considera la matricola assente trascorse le ore impostate nel limite Un esempio Il valore limite 12 ore indica che, passate le 12 ore dall'orario timbratura di entrata la matricola sarà considerata assente Quindi, una matricola con timbratura di entrata alle ore 8 risulterà nel report assente dopo le ore 20 È un dato non obbligatorio Esamina giustificazioni richieste Valuta nel report i giustificativi tipo C in stato richiesto Non obbligatorio Esamina giustificazioni preautorizzate Valuta nel report i giustificativi tipo C in stato preautorizzato Dato non obbligatorio Esamina giustificazioni autorizzate Valuta nel report i giustificativi tipo C in stato autorizzato Dato non obbligatorio Esamina giustificazioni non autorizzate valuta nel report i giustificativi di tipo C in stato non autorizzato. Anche questo è un dato non obbligatorio. Le impostazioni di stampa. Quando viene utilizzata la stampa presente e assenti, devono essere utilizzate le seguenti impostazioni. Inizio. È la data di inizio, periodo di controllo. È un dato non obbligatorio con il tipo di elaborazione numero 3 che vediamo poi di seguito. Data fine. È un dato di fine, periodo di controllo. Ora inizio. È ora inizio, periodo di controllo. Ora fine. Ora fine, periodo di controllo. Questi quattro valori stanno a indicare che nel momento in cui utilizzo un certo tipo di elaborazione, posso determinare di stampare i presenti e assenti all'interno di un intervallo, piuttosto che in data e ora attuali. Il tipo di elaborazione prevede infatti. Data e ora indicate. Considera data e ora indicate nel periodo di inizio e fine. Data e ora attuali. Considera data e ora attuali al momento di esecuzione del report. Giornata completa. Considera la giornata completa indicata su data inizio e fine. Orario pianificato. Considera la presenza assenza sulla base degli orari pianificati. Questo è un dato di tipo obbligatorio. Quindi nel momento in cui seleziono il tipo elaborazione numero 2, data e ora attuali, il sistema considera la data e ora di esecuzione della stampa, per cui non è necessario inserire i parametri di inizio e di fine e ora inizio e ora fine. Mentre se utilizzo il tipo elaborazione numero 1, data e ora indicate, in quel caso sarà obbligatorio inserire inizio e fine e ora inizio e ora fine. Poi devo selezionare evidenzia. È un dato obbligatorio. I parametri selezionabili sono tutti, quindi metto in evidenza, ovvero stampo in output, tutti, sia i presenti che gli assenti, solo presenti, solo assenti. Causale assenza. Posso attivare e selezionare la causale di assenza. Permette di filtrare le assenze in base alla causale di assenza selezionata. Varco. Permette di filtrare le assenze in base a un varco di terminali su cui è stata effettuata la timbratura. Stampa transiti. Stampa l'orario di timbratura. Stampa data di fine assenza. Se presente, un giustificativo di assenza dal giorno al giorno, il report emette la data di fine richiesta assenza. Considera presente con transiti dispari. In caso di timbrature dispari, considera la matriola presente. Aggiungi timbratura richieste. Considera per la validità della presenza assenza le richieste di giustificativo per timbratura mancante già elaborate nel cartellino, ovvero quelle valide. Includi anche le timbrature non ancora approvate ai fini della presenza del dipendente. Considera per la validità della presenza assenza le richieste di giustificativo per timbratura mancante ancora in stato richiesto, ovvero in attesa di autorizzazione. Tutti questi parametri, da causare assenza a includi le timbrature non ancora approvate ai fini della presenza del dipendente, sono non obbligatori. È possibile effettuare il controllo dei presenti assenti con confronto basato sulle fasce degli orari effettivi di elaborazione o con confronto sulle fasce degli orari teorici di attornazione. Per tutti gli altri casi è possibile lasciare il default ignora orari, quindi andrò a utilizzare il parametro delle impostazioni di orari solo nel caso in cui sia necessario fare un confronto dei presenti e degli assenti con riferimento alle fasce di un orario pianificato o previsto da tornazione. Nel parametro, il tipo di filtro posso utilizzare ignora orari, orari effettivi, orari teorici turnazione. È possibile inserire nel report informazioni anagrafiche associate alle matricole e correlate ai gruppi anagrafici. Anche qui i parametri che posso selezionare sono stampa gruppi anagrafici, emette nel report i gruppi anagrafici, emette descrizioni dei gruppi anagrafici, si attiva la stampa gruppi anagrafici, emette la descrizione abbinata al codice. Raggruppamento gruppi anagrafici, si attiva la stampa gruppi anagrafici, deve essere selezionato il raggruppamento dei gruppi che si desidera inserire in output. Ripeti i dati anagrafici, si attiva la stampa gruppi anagrafici, inserisce matricola, cognome, nome, gruppi anagrafici su ogni record. Ed è un parametro ottimizzato per la stampa in formato CSV o Excel, perché ottimizza il filtro per matricola, cognome, nome o codice di gruppo anagrafico. Vediamo un report di esempio. Nell'esempio si desidera emettere un report dei presenti e assenti alla data e ora attuali, considerando i giustificativi di assenza e le richieste di timbratura mancante in qualsiasi stato, quindi stato richiesto o stato autorizzato. Nella maschera di inserimento dati per la stampa inserirò il tipo di elaborazione, data e ora attuali, quindi non ho necessità di inserire un periodo di inizio-fine, ora inizio-ora fine, in quanto abbiamo visto che il parametro tipo elaborazione, data e ora attuali, permette la stampa in automatico basato sulla data, appunto, e ora del momento di esecuzione stampa. Inserisco evidenzia tutti, quindi voglio stampare sia chi ha il personale presente e chi è assente. Attivo il flag stampa transiti, attivo il flag stampa data di fine assenza, inserisco aggiungi timbrature richieste, che mi permette di attivare anche la stampa delle timbrature mancanti e inserisco includi anche le timbrature non ancora approvate ai fini della presenza del dipendente. Questo perché un dipendente potrebbe non aver timbrato su un dispositivo di terminali fissi piuttosto che tramite app, quindi il classico caso di timbratura mancante, ma ha fatto una richiesta di timbratura che ancora non è approvata, ma fisicamente è all'interno, quindi è ancora presente all'interno, per esempio, della struttura. Quindi ho necessità di includere anche questo tipo di timbratura. Sulla destra sono riportati alcuni esempi di timbrature, quindi una timbratura delle 8 in entrata, una timbratura per la matricola 2 delle 9 e 28 in entrata e per la matricola 4 una timbratura di entrata alle 7 e 39 e di uscita alle 14 e 35. E' poi presente su una matricola un evento di malattia, quindi un evento di assenza derivato dalla pratica malattia e una richiesta per la matricola 2 di timbrature mancanti. Queste informazioni, in base alla selezione dei parametri inseriti sulla stampa presente e assenti, generano un report con l'informazione che la matricola 1 ha una timbratura alle 8, risulta in stato presente. La matricola 2, che il giorno 28 non ha timbrature sul cartellino, risulta presente perché ha una mancata timbratura inserita tramite giustificativo alle ore 8 e 27 ed è ancora in stato richiesto. La matricola 3 non risulta presente, è assente ed è assente per causare assenza malattia. Vediamo anche che la matricola 3 sarà assente fino al 30 settembre. La matricola 4 ha una timbratura di uscita alle 14 e 35, risulta assente. La matricola 5 è esente, quindi significa che ha in anagrafica guidata un tipo di controllo esente da timbratura. La matricola 6 non ha timbrature e è assente, la matricola 890 ha una timbratura alle 8 e 28 ed è presente. Il report, oltre al riepilogo dei presenti e degli assenti, effettua anche una statistica sull'intera azienda, sul filtro impostato per la stampa dei dipendenti, in cui emette una statistica di questo tipo. Inserisce quante sono le matricole presenti all'interno del record. In questo caso sulla riva 12, sulla colonna B, vediamo 7 matricole esaminate, presenti 3 matricole, quindi il 42,86% del totale, 3 matricole assenti, quindi il 42,86%, una persona, una matricola che è esente, quindi rappresenta il 14,29%. Passiamo adesso alla stampa transiti. La stampa transiti permette di estrarre un report con le timbrature presenti nel cartellino in un determinato periodo. Le impostazioni di stampa da gestire per ottenere un output sono data inizio, è la data di inizio periodo di estrazione ed è un dato obbligatorio, data fine, è la data di fine periodo estrazione ed è un dato obbligatorio, la tipologia deve essere selezionata almeno una di queste tipologie, è un dato obbligatorio. P presenza emette in stampa la timbratura di rilevazione presenze, S servizio emette in stampa la timbratura di servizio, O originali e mette in stampa la timbratura originale, ovvero quelle che sono state eliminate, ma che vengono memorizzate all'interno della tabella timbrature, quindi sul database, come originale. E quarta tipologia, il tipo C, cambio centro di costo, riguarda la timbratura effettuata per cambio centro di costo. Impianto singolo, permette di filtrare le solo timbrature effettuate su uno specifico impianto. Terminale, dopo la selezione dell'impianto è possibile selezionare uno specifico terminale. Questi due parametri permettono di fare una selezione, quindi poter stampare delle timbrature soltanto appunto legate a uno specifico terminale. Varco, tre campi, varco 1, 2 e 3, permette di filtrare per singolo varco terminale. Filtra gruppi varchi, permette di filtrare per gruppo di varchi. Causale 1, 2 e 3, permette di filtrare per causale terminale associata alla timbratura. È possibile filtrare fino a tre causali terminale. Evidenzia ore per gruppo causali. Permette di emettere nel report una colonna con le ore elaborate nel cartellino per le causali inserite nel gruppo. Altri parametri sono Escludi dalla stampa chi non ha effettuato transiti. Escludi in output le matricole che non hanno transiti, permettendo un report con l'elenco delle sole matricole aventi timbrature. Evidenzia transiti dispari. Inserisce nel report le sole matricole che hanno timbrature in numero dispari, rendendo evidente il personale che ha una mancanza di timbrature. Evidenzia transiti su terminali non autorizzato. Evidenzia nel report le timbrature effettuate su terminali non autorizzati. Un dipendente per pagina. Emette il report inserendo un dipendente per pagina. Solo transiti inseriti manualmente. Emette il report con le sole timbrature inserite a mano nel cartellino. Stampa causali da terminale. Emette nel report il codice della causale terminale. Stampa solo timbrature causalizzate. Permette di filtrare le sole timbrature causalizzate. Stampa il codice del terminale. Inserisce nel report il codice del terminale da cui ha origine la timbratura. Stampa l'indirizzo IP. Inserisce nel report l'indirizzo IP del terminale da cui ha origine la timbratura. Stampa gruppi anagrafici. Emette in stampa gruppi anagrafici. Emette descrizioni dei gruppi anagrafici. Emette in stampa la descrizione dei gruppi anagrafici. Separa timbrature. Dispone le timbrature effettuate dalla matricola con separazione orizzontale. Questo parametro è ben utilizzato per il formato ottimizzato in output CSV o Excel. Ripete i dati anagrafici. Emette matricola e cognome e nome su ogni riga di stampa. È un formato ottimizzato per output in CSV o Excel. Vediamo adesso un report di esempio. Si desidera emettere un report delle sole timbrature di presenza effettuate dal personale con l'evidenza del terminale di arrivo della timbratura con l'esclusione delle matricole senza transiti. Quindi, all'interno della maschera di inserimento dati per il report viene inserita la data di inizio e la data di fine. In questo caso voglio la stampa delle timbrature per un periodo che va dal 27 settembre al 28 settembre. Nel cartellino vediamo che la matricola 1 ha una timbratura delle 8 e il 28, la matricola 4 ha 4 timbrature il 27 e 2 timbrature il 28. Seleziono il tipo P di presenza perché voglio ottenere un report con le sole timbrature di presenza. Inserisco Escludi dalla stampa chi non ha effettuato transiti e inserisco Stampa il codice del terminale. Ottengo un output di questo tipo con le informazioni desiderate. Quindi, visualizzerò che la matricola 1 ha una timbratura sabato 28 sul terminale 02 Milano alle ore 8, la matricola 4 ha venerdì 27 quattro timbrature effettuate sul terminale 01 di Pesaro, il sabato 28 due timbrature sempre sul terminale di Pesaro dalle alle 7.39 alle 14.35. Passiamo adesso alla Stampa Dipendenti. La Stampa Dipendenti permette di estrarre un report con l'elenco delle anagrafiche inserite sull'anagrafica guidate completo di tutte le informazioni anagrafiche salvate. Senza definizione di apposite liste campi, il report genera un'estrazione completa di tutte le informazioni anagrafiche salvate nell'anagrafica della risorsa con un output dati in verticale. Quindi, nel momento in cui accedo alla Stampa Dipendenti, può essere sufficiente inserire il periodo inizio e fine, quindi la fotografia alla data, per esempio, corrente, e premere il tasto esegui. Il sistema genera un report con un output in verticale con tutte le informazioni anagrafiche legate all'anagrafica guidata, ai gruppi anagrafici e agli attributi. È possibile, attraverso una creazione di lista, effettuare un'estrazione personalizzata dei gruppi anagrafici e degli attributi anagrafici, come per esempio la qualifica e il livello. Con l'utilizzo della lista, l'output è ottimizzato per formato CSV o Excel. Quindi, all'interno della Stampa Dipendenti inserisco inizio e fine, definisco una lista di campi, personalizzo la lista inserendo, ad esempio, cognome, nome, livello e qualifica. Salvo la lista, l'esecuzione della stampa con la lista selezionata mi permette di avere in output i dati come esposti nello screen di esempio. Matricola, cognome e nome, la qualifica, quindi la data di storicizzazione del codice qualifica, e il codice qualifica e la descrizione, stessa cosa per il livello, codice del livello, descrizione del livello e data di storicizzazione. Vediamo adesso le impostazioni di stampa generali. Periodo, estrae in stampa le anagrafiche attive nel periodo compreso da data inizio a data fine. L'utilizzo della stessa data nel campo inizio e fine valorizza come data del giorno di deduzione del report, giorno corrente, e permette di estrarre la fotografia delle anagrafiche in forza alla data di estrazione. Parametro, assunzione, estrae in stampa le anagrafiche che hanno data assunzione compresa nel periodo da data inizio a data fine. Data inizio attività, estrae in stampa le anagrafiche che hanno data inizio a attività compresa nel periodo da data inizio a data fine. Data fine attività, estrae in stampa le anagrafiche che hanno data fine attività compresa nel periodo da data inizio a data fine. Nascita, estrae in stampa le anagrafiche che hanno data nascita compresa nel periodo da data inizio a data fine. Storico gruppi anagrafici, estrae in stampa lo storico dei gruppi anagrafici. Emetti età, estrae in stampa l'informazione dell'età della matricola, si basa su data assunzione. Emetti periodi di assunzione, estrae in stampa i periodi di assunzione. Campi, estrae in stampa la lista dei campi. Tutti questi campi, tutti questi parametri non sono obbligatori. Vediamo un report di esempio. Si desidera emettere un report delle anagrafiche in forza inserite nella grafica guidata alla data di oggi, con il valore del livello e della qualifica, loro storicizzazione e età della matricola. Quindi, all'interno della maschera della stampa dipendenti andrò a inserire su periodo, inizio e fine la stessa data, quindi il giorno di estrazione. Nella parte di emissione attiverò emetti di iscrizione gruppi anagrafici, emetti storico gruppi anagrafici ed emetti età. E andrò a definire una lista dove all'interno avrò sia la qualifica che il livello. Effettuo la stampa e avrò in output l'elenco delle matricole, la loro età, cognome e nome, qualifica e livello. Vi ringrazio per l'attenzione.